Siamo con Ivan Bercolli, in pratica all'esordio in questo campionato di prima categoria, un po' di emozione l'ha avuto? Sì certo si ha sempre un po' di emozione quando si esordisce con la mia squadra, però dopo un po' si è superata e si è pensato solo a giocare. Anche perché la Ionica stava vincendo per 2-1? Certo ho dato il mio contributo sperando una vittoria che è arrivata. Differenza tra il settore giovanile e quello dilettantistico? C'è molta differenza perché qua in prima squadra i ritmi sono molto più elevati rispetto a quelli del settore giovanile, quindi devi correre di più e si fa più fatica sicuramente. Quando hai saputo che dovevi giocare? Me l'ha detto il mister, riscaldati bene quindi ho capito che mi piaceva entrare. GIOVI 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 Grazie a tutti.